Dietro, dietro, per voi. Dietro, dietro. Dietro, dietro. Dietro, signore, dietro. Per favore, qui davanti. Per favore, qui davanti. Passate, per favore, di là. Un po' di spazio. Mentre camminavamo ci siamo chiesti, ma noi siamo ancora cristiani? Certo, abbiamo radici cristiane, abbiamo opere d'arte che parlano di Gesù, abbiamo la croce appesa al collo, facciamo le nostre novene, continuiamo a battezzare i nostri figli, ma come mai dopo duemila anni di cammino dietro Gesù non abbiamo imparato veramente ad accoglierci? Se accogliamo veramente il Signore Gesù, dobbiamo lasciarci cambiare il cuore e non permettere alla paura di farci diventare persone dal cuore gelido. Se siamo cristiani non possiamo non essere accoglienti, se siamo cristiani dobbiamo essere accoglienti, scusate, dobbiamo avere il cuore aperto come Gesù. E quindi non vogliamo un'Europa col filo spinato, non vogliamo un'Europa nella quale è veramente difficile trovare accoglienza.